Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e soprafazione. E' la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera gente che lavora in nero e con il minimo per arricchire ai potenti. E' la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più. Lo spunto è stato l'episodio biblico della vigna di Naboth, descritto nel primo libro dei Re. Ma i contorni dell'attualità sono stati subito messi a fuoco da Papa Francesco, perché la ricchezza e il potere sono realtà che possono essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti con giustizia e carità. Ma quando, come troppo spesso avviene, vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di corruzione e morte. Rivolgendosi ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'udienza generale, il pontefice ha chiarito che la sete di potere diventa cupidigia che vuole possedere tutto. Auspicando che anche oggi gli sfruttatori possano convertirsi e chiedere perdono, come Reacab dopo aver condotto alla morte Naboth pur di avere la sua vigna, Papa Bergoglio ha ricordato che il male compiuto lascia le sue tracce dolorose, ma che la misericordia può guarire le ferite e può cambiare la storia. Gesù Cristo è il vero Re e ha aggiunto il suo trono e la croce e il suo andare verso tutti, soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e il destino di morte a cui ci conduce il peccato.